Prosegue il calo preoccupante degli studenti nelle scuole pubbliche del Terramano. Quest'anno sono stati 39.000 e il prossimo anno saranno 38.413. In tutta la regione per l'anno scolastico 2021-2022 sono previsti 2.073 all'unno in meno. Saranno poco meno di 167.000 a fronte di oltre 169.000 dello scorso anno scolastico le studentesse e gli studenti che frequenteranno le scuole pubbliche abruzzesi. Queste le stime della FLC CGL Teramo con la provincia che paga un tributo salato a queste riduzioni inferiore solo a quella di Chieti che perderà 990 all'unni mentre 380 a Pescara e 116 l'Aquila. Un dato che da solo documenta il persistente aumento della denatalità delle migrazioni dalle aree interne che si accompagnano ad un esodo diffuso delle nuove generazioni. Si tratta di una vera e propria emergenza che dovrebbe determinare interventi di lungo periodo con proposte che affrontino i nodi strutturali di questi problemi. Le scuole stanno affrontando un periodo emergenziale ed anche per le iniziative sindacali la dotazione organica di diritto dei docenti resta confermata. Diminuiscono alcuni posti per la riduzione degli istituti professionali. Aumentano nel sostegno con 32 cattedre aggiuntive. Qualche imposto in più, solo 7 cattedre, si avrà nella scuola dell'infanzia con l'organico potenziato. Il prossimo anno continua la FLC, CGL Teramo non sarà regolare, la pandemia farà ancora sentire i suoi effetti. Pertanto è importante consolidare un organico docente e data che consente di poter fare scuola rispettando i requisiti di distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Abbiamo chiesto, continua il sindacato, all'amministrazione scolastica di confermare il potenziamento dell'organico che in tempi di Covid-19 è stato dato, spostandolo nell'organico di fatto, evitando così problemi contrattuali e di disponibilità finanziarie. Non può trattarsi di una misura occasionale per tamponare l'emergenza, dovrebbe essere invece strutturale per affrontare le tante criticità territoriali presenti in provincia. Occorre per questo una programmazione di medio periodo e non continuare a distribuire gli organici in base al numero degli alunni che si iscrivono. Per evitare che si ripetano i problemi di quest'anno, il sindacato su questi temi chiede all'ambito territoriale di Teramo di attivare subito l'informativa e di accogliere le richieste delle scuole per avere organici adeguati in base al tempo scuola che vogliono offrire, capaci di garantire una ripartenza in sicurezza e dare agli studenti e alle studentesse una scuola pubblica di qualità.